Pronto? Sì, buonasera, io ho lasciato tutto fuori, eh Non ho capito niente Io ho lasciato tutto fuori, il pacco che mi aveva chiesto come l'altra volta E che pacco è? Scusa, eh Io l'ho lasciato fuori come al solito, dopo per il pagamento No, 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 che pagamento? Cazzo, che pagamento? No, per il pagamento fammo come l'altra volta, me lo mette in fattura tutto insicurato, eh, mi raccomando Ma che stai a dire? Ma che stai a dire? Ma che roba è? Vabbè, se non... Gli verrò incontro come l'altra volta, non si preoccupi No, no, io voglio niente Gli verrò incontro se non ce l'ha adesso e vinci più di un euro No, no, non ce l'ho mai niente, non ce l'ho mai niente E gli ho lasciato il pacco di lì dai cassetti come l'altra volta No, non ce l'ho mai niente, ma che me lo mette in fattura Come l'altra volta gli ho lasciato Ma che cazzo, non voglio niente Senta, gli ho lasciato, state lì, gli ho messo sui cassetti Sì, no, vinta la pia Per il pagamento, non si preoccupi Vinta la pia, non mi frega il pia Anche se è in difficoltà, io l'ho una mano, non si preoccupi No, Dio, caro, non ne voglio Senta, io l'ho lasciato sotto, eh Se bestemmia... Se bestemmia mi incazzo anch'io Perché sono molto cattolico e credo nella religione Ok? Ma che cazzo è? Come chi cazzo è? Ma scusi, ma lei come si... Scusi, mi hai portato sta roba Io gli ho lasciato il pacco fuori Se lo vuoi lo prendo Ma perché, perché, perché? Se no passo per via... Ali È la stoffa Io ho lasciato la stoffa come l'altra volta Ma che stoffa di un gare? Per la fia sua io ho lasciato la stoffa Per incantialami Ma signor Ma non devo smettere di fare silenzia Ripetere un pacco faste dentro la faccia Senta, io gli ho lasciato il pacco Se lei vuole prendere la fattura Io l'ho lasciata sopra Me la paga come l'altra volta Gli vengo... Ma non pago che? Che? Quanto? Quando non so neanche che è? Che non so neanche male, io moro 37 euro Ma non so neanche 37 euro Come per... Il pacco, senta 37 euro la spedizione Più la ricevuta notarile del... Degli articolo 766 della scuola Mabis Sono 1000 euro tondi Più 37 1037 Io l'ho lasciato un fattura Non c'è problema Se me ne vuole da un po' per volta Non sarà un problema Ma che cosa è questa roba? Ma che cosa è? Non ti faccio capire Ma come è 1000 euro? Ma che stupi di quello? Eh oh, eh signor Se c'è da pagare questa cifra Io quando... Io quando mi chiedono i soldi Li do, eh Non è che sto facendo tanti versi Come sta a fare le bestemme E cose... Senta signore Lei è su Italia 25 E lo scherzo telefonico Nel pomeriggio Un applauso al signore Ma non c'è la cifra Ma non c'è la cifra la mamma Che sto anche Ma tenta bene Perché sono Che stupi di quello Signore Lei sullo... Faccia un saluto Faccia un saluto al pubblico Faccia un saluto a tutto il pubblico Qui presente Ma lei allora fa anche i versi di animali signore Lo potremo invitare in trasmissione Signore Saluti il pubblico per un applauso La state mi perde Per favore La state mi perde Saluti il pubblico Ci vediamo Guardate Italia 27 dica L'ho capito Dica guardate Italia 27 Sì Lo dica Lo dica che è in diretta Lo dica Vabbè Vabbè Lo dica E mi faccia sto favore Che non ho scherzo Già Ero bello che è un vero cibo E mi faccia Mi faccia sto favore Guardate Italia 27 E dica Signore Io gliela posso dire queste cose E dica solo guardate Vabbè guardate Grazie Un applauso Arrivederci Buona serata